extrema razio il selvans ragazzi il selvans è il coltello è il coltello da campo uno dei miei coltelli preferiti disegnato sempre per extrema razio da daniele dal canto ed è il suo primo coltello anzi sapete cosa domani alle 14 esce un bel video sul canale youtube di backpacco dove ve lo spiega proprio lui io per il momento vi mostro un po le versioni questa è la versione expeditions che arriva con il suo fodero è tutto desert manico in for prene comodissimo coltello ragazzi venite a trovarmi durante qualche evento e lo proviamo insieme me lo direte quando ci avete giocato che ne pensate il fodero è un'altra opera di ingegneria di come solo l'extrema razio sa fare all'interno del taschino qui trovate del paracord che in realtà un esca per il fuoco un acciarino c'è anche lo striker ma si può usare tranquillamente questa parte del coltello dove vedete c'è proprio l'indicazione delle scintilline per fare il fuoco vi faccio vedere anche le altre versioni questo è un po quello classico tutto brunito stupendo vi rimando al video con daniele per capire le impugnature e i sistemi per utilizzare questa lama che ha effettivamente una geometria particolare e questo è il fodero della versione nera un fodero verde che davanti a una pannellatura molle questa pannellatura può servire per sistemare accessori per sistemare kit come questo sempre di extrema razio guardate che bello è un kit da sopravvivenza bene un kit di sopravvivenza non va mai preso alla leggera va sempre capito esplorato questo in dotazione anche ad alcuni reparti delle nostre forze armate e ovviamente ci si trova di tutto fischietto piccola torcetta led acciarino filo d'ottone per le trappole le riparazioni bussola l'abbiamo vista paracord pasticche per portabilizzare l'acqua una piastrina per affilare il coltello lo striker per l'acciarino ed una sega a catena per i rami più grandi un giorno ce lo portiamo nel boscolo andiamo a provare proprio in una condizione di sopravvivenza per il momento è un ottimo kit da abbinare al vostro coltello se però fate anche qualche corso o studiate per imparare a sopravvivere e chi meglio dell'idiatore di questo coltello proprio daniele dal canto può insegnarvi come utilizzare il suo kit in situazioni di vera emergenza trovate il link alla scuola di daniele proprio in descrizione vi faccio vedere anche il modello desert che arriva con il suo fodero anche lui di colore desert stavolta sempre con l'attacco molle quindi per quelli che si chiederanno quali sono le differenze tra i due coltelli che sembrano simili e cioè il modello desert e questo expeditions beh le differenze sono nella finitura qui abbiamo solo una brunitura mentre qui c'è prima una brunitura e poi una ripassata né una lavata con la roccia come sappiamo vengono rifinite le superfici dei modelli expeditions in mani quello stesso cambia il paracord e soprattutto cambia il fodero di nuovo vale la pena vedere le differenze poi si vedranno anche nel video con daniele qui avete un pannello molle una linea un tantino più aggressiva di sicuro qui avete un appocetto una tasca una taschina dove sistemare qualcosa e un acciarino in dotazione io vi ricordo che per tutti gli accessori e le lame che hanno preso parte alla spedizione snake riceverete anche una bellissima patch dedicata una patch da supporter in omaggio su backpack.it ma fino ad esaurimento scorte lo sapete che mi piace coccolarvi vi arriva con il selvans in regalo l'affilatore a doppia faccia di extrema razio questo affilatore questa pietra è una pietra da campo una pietra piccola di piccole dimensioni molto molto comoda da tenere nello zaino dove un lato è più ruvido e l'altro un po più sottile un po più liscio come si usa beh magari lo vediamo in un altro video ma si tratta sostanzialmente di passare la lama al giusto angolo e nella giusta posizione ora se comincio a farlo non finisco più e per gli stessi numeri di passate ok ragazzi non è il momento di mettersi a fare così io addirittura sto cercando di avere sulla parte della punta questa è una cosa mia che ho imparato un po da daniele comunque da tanti utilizzatori di questo coltello sulla punta su questa parte qui di fare un angolo ancora un po più pronunciato un angolo un po più affilato perché ci permette impugnandolo in questo modo di andare a lavorare a giocare con i legnetti ed è estremamente divertente beh è un coltello da impatto è un coltello tosto un vero coltello da sopravvivenza un vero coltello da campo è estremamente divertente e soddisfacente da usare non so spiegarvelo meglio provatelo provate la soddisfazione di dare i colpi con un selvans e capirete che cos'è l'avventura